Piemonte Notizie La nostra fondazione, Fondazione Chirurgo Cittadino, nata dall'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri, intende migliorare questo rapporto e portare su di un piano più semplice, più paritetico, i tanti problemi che il nostro mondo purtroppo quotidianamente affronta. Ecco, ma questo rapporto tra paziente e chirurgo, totalmente com'è? È complesso? È un rapporto complesso in ragione del fatto che il paziente vede il chirurgo da un lato come l'esecutore di un grande intervento, a volte addirittura miracolistico, altre volte invece lo legge sulle pagine dei quotidiani come purtroppo l'attore di fatti di malasanità. E questo rende assai difficile un rapporto sincero, netto, nitido che elimini queste problematiche. Il progetto La Chirurgia in Volto Umano ha suscitato grande interesse. Sono stati somministrati più di 10.000 questionari ai pazienti che comunque hanno risposto. Quindi c'è comunque questo grande interesse? C'è un grande interesse. L'adesione al questionario è stato un segnale importante di quanto si voglia stringere a questo patto, questo legame fra chirurgo e cittadino. E le risposte non hanno avuto neanche necessità di sollecitazione, tanto l'entusiasmo direi è stato letto in questa iniziativa. Possiamo magari andare più nel dettaglio spiegando come è stato fatto questo questionario, quali sono, diciamo così, i dettagli che emergono dallo stesso? Il questionario intendeva comprendere bene le ragioni attraverso le quali un cittadino si rivolge a una struttura piuttosto che a un'altra, il suo passato, non tanto leggere la situazione attuale quanto le ragioni storiche e come queste potessero aver inciso nella sua storia chirurgica. La chirurgia in Volto Umano è il primo progetto della Fondazione Chirurgo? È il primo progetto che intende lanciare anche visibilmente la nostra fondazione per poter poi avere slancio e avere da parte dei cittadini una lettura corretta delle sue reali esigenze e del suo ruolo molto più vicino al sociale rispetto ai ruoli svolti dalle nostre associazioni in senso più strettamente clinico. Le prossime attività della Fondazione? La giornata dell'ascolto che è già prevista avere un risvolto anche nelle piazze proprio per avvicinare ulteriormente il cittadino a ruolo del chirurgo e questa verrà probabilmente dopo l'estate e nell'autunno direttamente nelle piazze delle città. Parliamo ancora della Fondazione che lavora principalmente su ricerca e formazione del chirurgo? Sì, ha anche questa ambizione. In realtà la formazione del chirurgo continua attraverso i canali usuali. La Fondazione desidera invece approfondire tematiche di ordine sociale piuttosto che bioetico e questa è la ragione per la quale vede in sé anche rappresentanti di queste istituzioni così come quelle della cittadinanza attiva che sono un po' la controparte ma tale non deve essere della nostra Fondazione. Ringraziamo naturalmente il dottor Paolo De Paolis, direttore della Scuola Chirurgia dell'ospedale Grandeligo di Torino e proseguiamo con Piemonte Notizie. Grazie. 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 Grazie.